Secondo me, è meglio, secondo voi eh, dittemelo, è meglio stare a questo posticcino, dittemelo voi, io proprio voglio franzare, cioè, che pratica, voglia, è meglio stare qui, in Sardegna, stai mangiando ricci del genere, non c'è un'altra come questa, o dove siete adesso? Beh, diciamo che, due spigolette marzelline, meno male che quella che ho perso, a volte la camera è spenta, non è bene, figlio del gioco di sole.